Un azzurro è vicino al rinnovo, il Napoli vuole blindare il calciatore, avete sentito? Il Napoli sta iniziando a programmare il futuro. La squadra di Luciano Spalletti ha appena vinto lo scudetto, ma la dirigenza non intende lasciare nulla al caso. L'obiettivo del club azzurro in estate è quello di continuare ad aumentare il valore della rosa, trattenendo i calciatori migliori e andando ad occupare gli slot vuoti o che possono svuotarsi con altri calciatori di grande valore. Il reparto che può subire maggiori variazioni in casa Napoli è il centrocampo. Demmen e Dombele sono quasi certi dell'addio e resta da chiarire la posizione di Zielinski. Discorso differente invece per Elmas. Il Macedone si è dimostrato un vero e proprio jolly a disposizione di Luciano Spalletti, schierato sia a centrocampo che in attacco. Secondo quanto riferito dalle edizioni odierna di Repubblica, il Napoli ha intenzione di prolungare il contratto di Elmas. Il classe 99 è un vero e proprio pupillo di Spalletti e ha un accordo fino al 2025. La dirigenza vuole blindarlo e presto potrà avviare i contatti con il suo agente. Siete d'accordo con questa scelta?